Un centinaio di medicinali scaduti, alcuni anche da ben 10 anni, sono stati ritrovati all'interno della Casa della Salute di Subbiano. Per questo è scattata la denuncia per la responsabile della struttura. Il blitz dei carabinieri di Subbiano nella Casa della Salute dell'Asla Toscana Sud-Est è scattato ieri mattina. L'operazione è stata condotta assieme ai militari del nucleo carabinieri antisofisticazioni di Firenze e al nucleo carabinieri spettorato del lavoro di Arezzo. Le decine e decine di confezioni di farmaci ormai inutilizzabili trovati all'interno della struttura sono stati sequestrati dai carabinieri. Molti di questi contenevano morfina potente analgesico che ovviamente deve essere assunto sotto lo stretto controllo medico e che invece all'interno della struttura sarebbe stato custodito in modo del tutto irregolare, trovato all'interno di alcuni armadietti e quindi potenzialmente alla portata di chiunque. Le indagini avevano preso avvio a seguito di alcune segnalazioni. Nel corso dell'ispezione militari hanno anche accertato che il personale dipendente non riceveva per alcune prestazioni la giusta corresponsione di indennità. È così scattata la denuncia per il responsabile della struttura, le accuse per lui sono quelle di commercio somministrazione di medicinali guasti e detenzione di sostanze stupefacenti. Sono stati inoltre avviati altri accettamenti relativi alla posizione di un dirigente. L'Asla Toscana Sud-Est infine ha fatto sapere di aver avviato una serie di verifiche interne per accertare le responsabilità sulla vicenda della Casa della Salute di Subbiano.